San Valentino a Napoli sarà quest'anno una giornata speciale soprattutto per gli innamorati che amano la propria città ed avranno l'opportunità di scoprire luoghi e monumenti accompagnati da ciceroni illustri. È il nuovo format di visite guidate ideato dallo scrittore Maurizio De Giovanni presentato questa mattina dall'assessore alla cultura e al turismo Nino Daniele che permetterà a turisti e cittadini di visitare il nostro patrimonio storico artistico con delle guide d'eccezione. Veramente scende in campo un dream team fatto di tante personalità celebri della nostra città in tutti i campi dal giornalismo all'arte alla musica al teatro al cinema per guidare i cittadini di Napoli ma anche speriamo tanti turisti a conoscere più a fondo in aspetti insolidi e non sempre esplorati della nostra meravigliosa città quindi speriamo che davvero in quel giorno ai tanti tantissimi innamorati di cui la città di Napoli già dispone se ne aggiungano tanti e tanti altri e quando ci si innamora di Napoli è un amore per sempre. Con Angela Luce che farà da madrina le visite inizieranno da Palazzo San Giacomo e proseguiranno in tutta la città dal Maschio Angioino a Trentaremi, dal Centro Antico agli Studi Rai di Fuorigrotta, da Castel dell'Ovo a Scampia. L'organizzazione della manifestazione che si terrà nella mattinata di domenica 14 febbraio è stata affidata all'Associazione di Categoria Guide Turistiche Campane presso la quale sarà possibile già da oggi prenotarsi attraverso l'indirizzo mail e i numeri in sovraimpressione.